Ho testato Wiko Y981 per più di una settimana ormai e sono finalmente pronto a mostrarvi la recensione completa. Vi anticipo che Wiko con questo device di fascia bassa venduto a circa 100€ ha fatto un buon lavoro ed ha realizzato uno smartphone economico ma in grado di offrire prestazioni interessanti e un'autonomia eccellente. Ne scopriamo insieme tutti i dettagli nella recensione completa. Iniziamo la nostra analisi da quello che è il contenuto della confezione. All'interno della scatola si trova una dotazione abbastanza completa che comprende una caricabatterie da 5V 1A non compatibile quindi con la ricarica rapida, un cavo USB e micro USB da utilizzare appunto per la ricarica ed un paio di cuffie con jack audio da 3,5V di qualità sufficiente. Manca la cover e forse sarebbe stato meglio inserirla al posto delle cuffie, visto che la qualità non è altissima avrebbe sicuramente fatto più comodo in questa fascia di mercato. Andiamo a rimuovere un po' di oggetti dall'inquadratura e passiamo ad analizzare quello che è il design. Wiko Y81 ha un design sicuramente non esaltante ma è lecito non aspettarsi di più da un device di questa fascia di prezzo. La scocca è realizzata interamente in plastica ma è nel complesso un device ben costruito ed abbastanza solido. Il design come vi dicevo non ha niente di particolare, c'è il noccia goccia di dimensioni modeste sulla parte frontale del dispositivo, capsula auricolare qui in alto, sulla retro troviamo la singola fotocamera con un pad in silicone antiscivolo. Lo speaker mono è protetto e potenziato da questo piccolo pin in plastica che permette al dispositivo di rimanere leggermente sollevato quando è su una superficie piana in modo che quando andate a riprodurre della musica il suono non venga completamente smorzato. Lato sinistro è quasi completamente sgombro, c'è solamente lo slot per il carellino SIM che è 2SIM più microSD quindi potete utilizzare contemporaneamente 2 nano SIM e la memoria SD per l'espansione. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume ed il tasto power che sono leggermente, il tasto power è zigrinato quindi vi permette di riconoscerlo più facilmente al tatto. Sulla parte bassa connettore micro USB e microfono. Per quanto riguarda la costruzione quindi abbiamo detto che è un device solido le dimensioni sono abbastanza compatte, parliamo di 157.9 mm x 76.1, 8.3 mm di spessore quindi un device abbastanza piccolino che si riesce ad impugnare anche con una sola mano soprattutto se sfruttate la modalità ad una mano presente nel software. Bene anche il peso di soli 166 grammi. Per quanto riguarda l'hardware ovviamente Y981 monta una componentistica di fascia bassa troviamo una CPU Mediatek MT6761D che è comunque un processore quad core da 1,8 GHz affiancata da una GPU IMG GE8300, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD come vi dicevo qualche istante fa. Le performance generalmente sono sufficienti anche in navigazione si riesce ad avere una buona fluidità e se utilizzate i social network penso a Instagram e Facebook riuscite sicuramente ad avere delle prestazioni sufficienti magari dovete pazientare un attimo nei tempi di caricamento ma la scorrevolezza è buona e si riesce ad utilizzare al meglio lo smartphone per quello che è il suo utilizzo di base senza nessun problema. Potete anche addentrarvi nel settore del gaming con qualche difficoltà in più. Adesso vi mostro come gira Real Racing 3 taglio però i tempi di caricamento che non sono cortissimi. Eccomi qua ne approfittiamo per sentire lo speaker mono che ha un audio di qualità sufficiente ed un volume massimo nella media. Non è di altissima qualità appunto ma se lo utilizzate per giocare o guardare qualche video su YouTube è sicuramente più che sufficiente ma vediamo come si comporta in termini di prestazioni. Come sentite se mettete la mano sul retro viene smorzato l'audio. Nel complesso abbiamo visto che le prestazioni sono sufficienti la qualità del gaming non è altissima ma si riesce comunque a giocare. Abbiamo sentito lo speaker posteriore che è tutto sommato sufficiente è altrettanto buono l'audio in chiamata sia in capsula che in viva voce non ho avuto problemi di ricezione sotto rete wind quindi devo dire che il device si comporta molto bene. C'è la compatibilità con il dual sim dual stand by con connessione 4G LTE a presenza del wifi bluetooth 4.2 c'è il jack audio nella parte superiore del device mi ero dimenticato di dirvelo prima. mancano il led di notifica e il chip NFC ma non sono assenze particolarmente gravi. Va segnalata però l'assenza dello sblocco tramite l'impronte digitale infatti come vedete non ci sono sensori per il rilevamento dell'impronte. Lo sblocco viene affidato solamente alla fotocamera frontale per il riconoscimento facciale. La fotocamera frontale in condizioni di buona luce ci permette di sbloccare il device in tempi davvero rapidi però ha serie difficoltà fino a diventare impossibili al calare della luce. Ci sono poi i vari smart lock di Android con dispositivi bluetooth connessi come può essere ad esempio una smartwatch e con i luoghi attendibili che ne migliorano l'utilizzabilità quando siete in casa o al lavoro. Però permane il problema della sicurezza e anche dell'efficienza del maggiore che garantirebbe lo sblocco tramite le impronte digitali. È una piccola mancanza che però poteva essere colmata davvero in maniera facile e veloce però nel complesso il comparto audio e connettività è più che completo. Parliamo adesso dello schermo. Wiko Y81 monta un display da 6,2 pollici di diagonale con risoluzione HD+, quindi a 1520x720 pixel di risoluzione con 270ppi. Lo schermo nel complesso è molto buono, ha dei colori ben bilanciati, un'ottima luminosità massima ed una leggibilità sotto il sole sufficiente anche se potrebbe capitare in qualche occasione di dovervi fare schermo con una mano per farvi un po' di ombra. Nel complesso quindi lo schermo è più che sufficiente, il notch a goccia occupa poco spazio anche se ci sono delle cornici abbastanza pronunciate. L'unico difetto del display ovviamente tenendo conto del prezzo di vendita è il trattamento oleofobico che è di dubbia qualità, infatti il device tende a trattenere molte dittate. Per quanto riguarda la fotocamera devo dire che Wiko ha fatto l'intelligentissima scelta e apprezzo molto di dotare Y81 di una sola fotocamera posteriore da 13 megapixel. Questa scelta la provo perché in tanti device di fascia bassa e fascia media si vedono un sacco di fotocamere fino a 3 o 4 di qualità terribile meglio puntare su una singola fotocamera di buona qualità. Grazie al sensore da 13 megapixel Wiko Y81 riesce ad effettuare degli scatti di qualità sufficiente durante il giorno con un buon livello di dettaglio e colori ben bilanciati la qualità scende di notte fino a quasi a diventare non sufficiente nonostante la presenza della modalità notturna. La fotocamera frontale è invece da 5 megapixel e vi consente di utilizzare i selfie scattati per i social senza particolari impianti. Quindi nel complesso il settore fotografico secondo me è più che sufficiente ed apprezzo la scelta della singola ottica se non si fosse già capito. Parlando di software Wiko ha fatto un'intelligente scelta di montare Android 10 in versione Go questo ci porta ad avere le app Go di casa Google come ad esempio Google Go, Google Go Galleria, Google Go Assistente che ci permettono di utilizzare al meglio tutte quelle che sono le funzionalità che si trovano sui device come i pixel o altri dispositivi dotati di Android Stock. Il software funziona bene, è bello fluido ed è dotato di tutte le future che ci interessano. Quindi c'è la presenza del tema scuro, ci sono assistenti di Google, c'è la modalità DuraSpeed e la modalità Game che ci permettono di migliorare le prestazioni durante le sessioni di gaming, c'è la modalità di una mano e insomma ci sono tutte le funzioni che utilizziamo più spesso. Mi è piaciuto ed ho trovato molto utile la Simple Mode che va a modificare il launcher di default impostandolo con una modalità più adatta agli anziani. Grazie a questa interfaccia come vedete si creano dei grandi pulsantoni che limitano all'indispensabile le applicazioni e le funzionalità del device. È una funzionalità che sicuramente tornerà molto utile se dovete regalare questo smartphone ai vostri genitori, ai vostri nonni o a qualche zio che insomma a chi è meno pratico di tecnologia e vuole lo smartphone per mandarsi la foto su WhatsApp e per fare le chiamate. Quindi nel complesso il software è davvero molto molto buono. Prima di concludere ci rimangono da analizzare la batteria ed il prezzo. La batteria è da 4000 mAh e grazie anche all'hardware poco dispendioso in termini energetici riesce a garantire un'autonomia davvero molto buona. Di fatto se riescono a coprire due giorni interi di utilizzo e se utilizzate il vostro smartphone in maniera un po' più blanda e un po' meno frequente riuscite anche ad andare oltre. L'unica pecca è la presenza del connettore micro USB che nel 2020 ormai è superato ma che ci sta in un device di questa fascia di prezzo e la mancanza della ricarica rapida che vi porta quindi a dover aspettare circa due ore per una ricarica completa del dispositivo. Ultimo punto da analizzare è quello del prezzo. Wiko Y81 viene venduto presso i principali negozi di elettronica a circa 100-110 euro. È un prezzo davvero molto interessante che lo rende uno dei migliori smartphone di fascia bassa del mercato. Passando quindi alle conclusioni possiamo dire che Wiko con Y81 ha fatto davvero un ottimo lavoro. È riuscita a creare un device di fascia bassa venduto al giusto prezzo in grado di garantire prestazioni più che sufficienti per un utilizzo di base dello smartphone, un'autonomia eccellente ed una buona fotocamera. Quindi nel complesso è un device più che buono e davvero molto interessante per chi cerca un dispositivo nella fascia dei 100 euro. Se la recensione vi è piaciuta vi chiedo cortesemente di mettere un pollice in su qui sotto nel video, di iscrivervi al nostro canale, di attivare anche la campanellina per le notifiche e di seguirci anche su tutti i nostri canali social che trovate qui sotto nella descrizione del video. Da Vittorio Tiso per Out of Speed è tutto, grazie e alla prossima!